Come fatto in un precedente video pubblicato riguardante SmackDown, ora andiamo a Raw e lo analizziamo dopo il draft, ma qui ho difficoltà a trovare un titolo perché Raw non mi convince. Lo so, ho letto i vostri commenti, parecchi di voi hanno scritto Raw è figo, mi piace, ho come l'impressione che ci abbia guadagnato, beh, io sono dell'idea diametralmente opposta. Io credo che Raw farà fatica a trovare una sua identità e che abbia molto più da costruire e da creare. Questo non vuol dire che sarà un brutto show o un brutto spettacolo, anzi, l'emergenza crea l'opportunità. Però vedo dei sentieri, dei segnali, delle traiettorie un po' troppo telefonate. Spero di essere smentito, d'altronde stiamo giocando con le previsioni e un po' con la fantasia. Però ci sono dei dati incontrovertibili e sono quelli delle mie tabelle. Questi sono gli uomini, divisi tra Face e Heal. Come vedete gli Heal sono più numerosi, però ci sono anche tanti personaggi che rientrano tra le seconde linee. Tra i Face abbiamo Big E, campione WB in carica, gli Archie Bro, Randy Orton e Riddle, Edge, Ray e Dominic Mysterio, Reggie, Damian Priest, Kevin Owens, Finn Balor, Gable Stevenson. Ne abbiamo parlato ieri sera in diretta su Twitch. Io mi immaginavo un suo Vrestal Mania Dream Match con Roman Reigns, figuratevi. Invece è stato draftato a Rome, può sempre vincere la Royal Rumble e poi R-Truth. Tra gli Heal ci sono Kate Lee, Austin Theory, tra l'altro buon esordio, Otis e Chad Gable, Apollo Crews e Aziz, John Morrison, Bobby Lashley, Seth Rollins, Carrion Cross, Age Styles e Homos, Dol Ziegler e Robert Roode, Jackson Ryker, Weir, The Miz, Shelton Benjamin e Cedric Alexander e T-Bar. Spero di averli messi tutti, cosa che non mi lascia tranquillo, ma che ci sono tantissimi lottatori fisici, molti sembrano dei cloni di altri, ma soprattutto non ci sono, per ora, i personaggi che vendono lo show. Certo, qua c'è anche Goldberg, che al momento come free agent è collocato qui, anche se non è stato selezionato. Però a SmackDown abbiamo Roman Reigns, abbiamo al momento Brock Lesnar, hai Charlotte Flair, hai Sasha Banks, poi andremo a vedere le ragazze, comunque hai degli alfieri che danno identità al programma. Qui complice un campione ancora unproven come Big E e alcuni veterani che non potranno, credo, esserci sempre e combattere con regolarità come Edge o Rey Mysterio, ma qui questa cosa mi manca. Quindi non lo so, a me sembra un cantiere a cielo aperto dove, lo ripeto, può anche darsi che saltino fuori delle cose grandiose, però ai blocchi di partenza, come se fosse una gara di nuoto, io vedo un po' svantaggiato Raw rispetto a SmackDown. Sì, c'è anche qualcuno di non collocato, ad esempio Akira Tosawa e Drake Maverick, però ragionevolmente è gente che correrà dietro al titolo 24-7 di Reggie, sino a che questa cintura resterà a disposizione. Non so se anche voi avete questa sensazione a pelle, che provo io, magari riuscite a smentirla nei commenti, però immaginiamoci anche i futuri avversari di Damien Priest, che è un atleta fisico, che però non ha messo in quella categoria, perché è anche abbastanza dinamico. E chi potrebbero essere? Kate Lee? Bobby Lashley, che esce dal giro titolato? Karrion Kross? T-Bar? Non lo so, cioè non riesco a immaginare per molti dei face, che è il gruppo in minoranza, l'avversario col quale dico, wow, è un match che voglio vedere. Cioè prendete anche Finn Balor, che è stato posizionato a Raw anche per toglierlo dall'influenza di Roman Reigns, e non dover spiegare come mai la corda si è rotta e Stream Rules. Cioè qual è il match da wow di Finn Balor con gli Heal al momento presenti? Con Egestice? Però nella categoria Tech Team. Certo, alla lunga potrebbe uscirne, però vedete che si arranca un attimo, si arranca un attimo a creare gli accoppiamenti giusti, gli accoppiamenti che dici, oh, mi vendono lo show, me lo fanno vedere, me lo fanno desiderare. Qui sotto nei commenti spiegatemi se la pensate in maniera differente, qual è la vostra opinione, dettagliatemela, che sono molto interessato. Io ho come l'impressione che accadrà qualcosa a medio termine, ma ve ne parlerò più avanti, tanto ve lo dicevo, giochiamo alle previsioni. Qui abbiamo la categoria Tech Team. Allora, dalla parte dei face ci sono gli Street Profits, gli Archibro, Ere e Dominic Mysterio, Dalí, Legend, Stiles e Hommos, Dolph Ziggler e Robert Roode, Otis e Chad Gable, Apollo Crews e Aziz, Shelton Benjamin e Cedric Alexander. Ora, tutti questi li avete trovati anche tra i singoli, tranne gli Street Profits, perché è l'unica vera squadra, a parte Ray e Dominic, padre e figlio, che però, insomma, si stanno un po' separando, però l'unica vera squadra che WB ci ha proposto, fin dall'inizio, praticamente, nei suoi programmi, è quella degli Street Profits. Qui abbiamo un sacco di alleanze tra singoli, alcune anche di lunga gettata e durata, che però, insomma, sono insieme un po' per necessità, più che per scelta loro. Cioè, ci sono tanti combattenti che avevano o hanno ambizioni in singolo, come G. Stiles, come Dolph Ziggler che le aveva, come Otis che potrebbe averle, o Apollo Crews che, insomma, hanno trovato nella divisione a squadre una sorta di piccolo parcheggio. Il pool di team, comunque, è interessante, possono uscire tanti scontri importanti, però, come la sensazione che, se la tua divisione a squadre è praticamente l'unione, quasi sempre, di due singoli che sono costretti a unire le forze, beh, forse c'è qualcosa che non va in questa proposta. Ma, lo sappiamo, WB, ormai da tempo, non è focalizzata sulle squadre, sulle compagini, sulle squadre tech team. Andiamo alle donne, andiamo a vedere le donne. Le donne è carina sta cosa, date un'occhiata. Io spero di averle divise bene e vi sorprenderanno, non ho messo Becky Lynch tra le hill, perché Becky Lynch, nella mia analisi, non sta facendo la hill, sta facendo la dura, che è diverso. Sta prendendo il meglio di entrambe le posizioni, comportandosi da hill con gli atteggiamenti, ma non in maniera feroce da hill con le azioni. Sì, qualche disturbo, qualche interferenza, però è quello che ci si aspetta da un campione moderno, da uno che non fa il boy scout con il salame sugli occhi. Però guardate come sono divise, cioè tra gli hill, a parte Alexa Bliss che è ferma per un infortunio e quando tornerà non sappiamo in che vesti, cioè tra gli hill ci sono Naya Jax, ferma per infortunio, Zelina Vega, Carmella e Tamina. Ora, anche tra gli uomini le cose potrebbero cambiare, gli schieramenti non sono scolpiti nella pietra, io ho come l'impressione che su tra i maschi ci saranno tanti passaggi, da buono a cattivo e viceversa. Però guardate questa carta d'identità, cioè le tizie più numerose ma anche più importanti, futuribili, sono Face, Bianca Belair, Rhea Ripley, Nikki Hes, Dio Drop, Dana Brooke, Liv Morgan, Tegan Nox. Cosa mi dice questo schema? Beh, che a meno che WWE non ci stia trollando, a meno che l'analisi attuale non venga smentita dal domani, tutto ciò mi sembra suggerire che Becky Lynch sarà campionessa a lungo e che tutta la batteria delle Face è pronta a sfidarla e che ci sono program da qui a Vrestalmania tranquilli, ma volendo anche oltre. Ora, Becky Lynch potrebbe finire quello che ha in ballo con Bianca, poi potrebbe affrontare Dio Drop o Liv Morgan, magari Liv Morgan riesce a ottenere dei buoni risultati, c'è anche un torneo Regina del Ring che potrebbe gratificare qualcuna di queste, poi c'è Nikki Hes, la supereroina, poi magari torna Alexa Bliss, poi c'è Rhea Ripley, cioè, insomma, se le cose non cambiano, questo schema qui ci dice che vedremo lo strapotere di Becky Lynch, così, la butto là. Oh, poi le sorprese sono sempre dietro l'angolo, è il bello del wrestling. E sapete cosa temo? Cioè, cosa temo che accada, ma non temo con orrore, però cosa credo possa accadere che prima o poi, qui, visto che c'è una prateria anche da queste parti, che prima o poi Seth Rollins diventi campione. Perché tra i nomi affermati, tra gli heel, già pronti, già maturi, ci sono lui e Bobby Lashley, io non ne vedo altri, sono questi e potrebbe la WB proporci la power couple, la coppia del potere, col predicatore folle Becky Lynch che uniscono le forze, anche se Seth nelle interviste ha detto che una cosa del genere non gli piacerebbe, però è una eventualità di cui dobbiamo tenere conto, ok? Andiamo a vedere le storie già in corso, sono quasi tutte legate ad una competizione per una cintura e quindi è poca roba, nel senso Becky Lynch contro Bianca Belair, cintura di mezzo, Becky è tornata, ha sconfitto Bianca Belair, la superlativa vuole vendicarsi, ok. Beh, quella tra Rey Mysterio e Dominic per me ha delle potenzialità mostruose, va scritta bene, perché c'è il percorso di scoperta di sé del figlio e anche di accettazione del padre ad un ruolo di distanza per permettere alla sua discendenza di trovare la sua strada. Questa è una storia secondo me magnifica, non devono ciccarla perché è veramente bella. Di Archibro contro i Gestiles e Homos anche qui c'è di mezzo un titolo, Edge contro Seth Rollins siamo all'atto finale, non male il debutto di Austin Theory che inganna Jeff Hardy e quindi si scrolla di dosso un po' il personaggio dello stordito che ci ha mostrato a NXT, chiaramente questa è una rivalità che si consumerà nel breve periodo se andrà avanti perché il Cavaliere del Vento è atteso a SmackDown, anzi, potrebbe essere lo starting point per il suo cambio di personaggio. Poi c'è il possibile ritorno della Horde Business che potrebbe potenziare Bobby Lashley che è atteso ad un match contro Goldberg da Crown Jewel con il figlio Gage di Goldberg che magari si farà coinvolgere ma è comunque il pomo della discordia comunque vada a finire qui c'è una B in più per Bobby Lashley comunque vada a finire credo che la rivalità dovrebbe in qualche modo fermarsi lì e poi un long shot c'è The Meads contro John Morrison il cui finale non si è consumato anzi è stato tutto interrotto così senza grandi spiegazioni perché il Magnifico è entrato nel cast americano della nuova stagione di Ballando con le stelle però come vedete a parte Rai Mysterio e Dominic e poco altro sono tutte rivalità o all'atto finale all'atto conclusivo al match che le chiuderà oppure che nascono dal tu sei campione io voglio cintura insomma dicevo cantiere aperto e lo ribadisco lo ribadisco non è un giudizio negativo non voglio essere pessimista però ho come l'impressione che Roci metterà un po' di più a carburare che le gerarchie sono meno definite che le storie sono tutte da inventarsi e ripeto non è una cosa negativa non è una cosa negativa perché da qui puoi cavarci il succo l'aranciata delle opportunità e migliorare la tua carriera e finalmente brillare sotto al sole però le strade che vedo aprirsi con il punto di partenza che ora abbiamo sotto gli occhi sono poche questo punto di partenza potrebbe modificarsi con un po' di passaggi e di rimescolamenti tra i face e gli ill che credo siano necessari quindi Ro parte per me indietro nelle gerarchie come spettacolo rispetto a Smackdown poi fortunatamente sarà la realtà solida e concreta a darci tutte le risposte però voi così di primo acchito sulla carta con un'analisi nero su bianco cosa ne pensate? siete allineati con me? oppure avete altre idee? fatemelo sapere sempre dibattendo con educazione qui sotto nei commenti con un'analisi